Il Signore Gesù, che ha rivelato qui la comunità canziana, ci rende sull'eucaristia e sul genitio difendevole, uniti dallo Spirito di Cristo, diciamo, insieme. Ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, sacramento di salvezza per il mondo, perché lo corrispia, vesti, l'adorazione dei fedeli e il loro impegno concreto, preghiato. Ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per noi, tutti uniti, affinché innalziamo la potera e l'ingraziamento per il dono e la società ministeriale, al servizio del popolo di Dio, preghiato. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, che nell'eucaristia ti fai il compagno dell'umanità fino alla fine dei secoli, dovresti diffuscare la tua presenza e collaborare con te nell'edificazione del tuo regno di carità. Tu che vi è regno, sei in secoli, sei in cori. Amen. Grazie. 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 Gesù è il futuro in tibica del mio amore. Gesù guarda me dico mello, a donde me dico eserlo, sempre con voi che voi sarete un solo corpo e me. Gesù guarda me dico me diirem. Grazie a tutti. 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 Amén. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.